Fondamentalmente io sono un imprenditore, un imprenditore che utilizza ormai da più di 20 anni il marketing e la fase commerciale legata al marketing, perché per me il marketing è totalmente orientato al ROI, quindi al fatturato, al profitto, all'acquisizione di clienti. Tutto il resto del marketing per me è aleatorio e comunque circonda questo dato. Quello che per me è importante è che il marketing e la comunicazione sia orientato alla crescita di un'azienda e nell'arco del tempo abbiamo veramente implementato tante cose, ne abbiamo utilizzate tante, ne abbiamo sbagliate tante, abbiamo sprecato valanghe di soldi in strategie, in tattiche, in tools che non hanno portato risultati, tante altre invece le hanno portate. Siamo arrivati a un'essenza di quella che secondo noi è la macchina di crescita, quella che io credo fermamente sia la macchina che a mio avviso dovrebbero insegnare a ogni imprenditore quando decide di fare un business, che sia una startup, che sia un business avviato o un business che vuole comunque comunicare online per vendere prodotti online, offline ovviamente, quindi acquisire clienti per poi vendere offline, dovrebbe avere questa macchina che vi presento qui. Una macchina che ti permetta di prevedere più o meno quello che può succedere, devi ripeterla se hai diverse linee di prodotto o diverse tipologie ripetibili anche se cambi il marketing manager, anche se cambi il team di marketing, anche se cambi la web company che ti supporta, deve essere ripetibile. E dall'altra parte deve essere scalabile. Non ha senso implementare mille cose se prima non hai i dati delle KPI, quindi quanto ti costa un lead al base che tu hai? Dai lead quanti questi vanno in appuntamento commerciale? Dai commerciali quanto poi vanno in vendita? Dalla vendita? Qual è il prodotto che vendiamo? Qual è il ticket medio? Se non hai questi dati, tutto quello che tu hai messo nel business plan o tutto quello che tu pensi dalla tua esperienza di poter fare è completamente aleatorio. Quindi la prima cosa che occorre fare è andare a mercato, capire qual è il messaggio che funziona meglio, capire qual è l'offerta che funziona meglio. No sito web, loghi agili, robe molto molto agili. Identifichiamo tre prodotti, tre offerte o tre messaggi o tre linee, le testiamo, vediamo cosa succede, raccogliamo i numeri e dal di lì riga, si decide cosa fare. Sono società con le quali abbiamo fatto di go to market, con cui abbiamo poi iniziato a fare business insieme. Ci sono società di go to market, con cui poi abbiamo proseguito noi a fare marketing per loro. Ci sono società di go to market in cui è andata malissimo, ma non perché il marketing era sbagliato, semplicemente perché abbiamo testato il mercato e il mercato ci ha detto non mi interessa il tuo prodotto o perlomeno come me lo stai promuovendo. Ci siete ragazzi? Quindi go to market è uno degli aspetti nella macchina di crescita, uno degli aspetti fondamentali. E come è fatto? È creato da due elementi fondamentali. Per gli amanti, per i puristi del traffico, mi dispiace ragazzi, non siete nel posto giusto, perché per quanta gente bravissima, per quanti oramai milioni di euro abbiamo investito in ads, io sono un fan invece della struttura, della macchina. Immaginate che questa macchina è formata da più pezzi, da più elementi, da più meccanismi. Questo meccanismo qui, del go to market, è composto dal nostro punto di vista da tre elementi fondamentali. Numero uno, il traffico. La fase due che è di lead generation, cioè la fase di funneling, e generalmente occorre partire con più funnel. Occorre creare già subito un ecosistema dei funnel. Ragazzi, fare un funnel è una bagianata, se avete una struttura, se avete un supporto, se sapete come farlo. Se utilizzate ClickFunnels, se copiate un funnel, e poi ne avete già due, lo svestite di un video, di un copy, non lo rivestite, avete già due prodotti a poter lanciare. Questa, secondo me, è l'agilità del funnel marketing rispetto a altre leve. Ma il terzo elemento fondamentale, in questo contesto qua, è chiamare le persone e allungare la vita del funnel con una caller che deve, lato customer care, invitare le persone a compiere l'azione che vogliamo, lato funnel. Che magari è fissare un appuntamento col commerciale, fissare un appuntamento con te, se sei tu che stai facendo il go to market, o scremarla, filtrarla, oppure portare le persone alla vendita, magari, di un prodotto di front end. Perché è importante? Perché, ragazzi, ci deve essere un contatto umano. Questo vuol dire andare go to market, per dirvi, quando noi, per esempio, facciamo i webinar, comunque sia, facciamo seguire una chiamata di customer care a tutte le persone, per dare informazioni, per dare magari il replay che è temporaneo per qualche giorno, per dare magari le slide, o per dare, magari, per fissare l'appuntamento. E questo fa alzare i tassi di appuntamento, di conversione del funnel, di soldi che ho speso prima, in maniera vorticosa, ragazzi. Quindi, per me, un go to market deve essere fatto così. Magari siete del drag di Facebook, bene, congratulazioni, iniziate ad essere esperti anche in altri social, perché Facebook, scrittiola, però, dall'altra parte, strutturatevi per fare un go to market del genere. Ok? Ci siete, ragazzi? Questo, per me, è uno degli elementi della macchina di crescita. La prima cosa che voglio fare, voglio stare agile. Non voglio spendere troppi soldi, voglio capire i numeri del mercato, che possono essere belli o brutti, ma sono dei numeri. Voglio capire il messaggio più funzionale, voglio capire l'offerta più funzionale, voglio capire questi lead cosa convertono, quanto convertono e che ticket è meglio. Ci siete, ragazzi? Quando ho questi dati qua, allora ho capito il mercato e posso iniziare a dire, ok, se ora investo, ho fatto un test di 1000 euro, ora posso investire 5000 euro e più o meno so che avrò questi numeri qua. Grazie a tutti.